Ciao amici ballerini appassionati della country dance, in questo video vi spiegherò come funziona un Applejack. L'Applejack è un passo chiave della country dance, molti di voi lo sapranno già fare benissimo, altri non sanno minimamente come funziona. Questo video è per chi non sa come funziona. Vi faccio vedere prima il passo completo e poi vi spiego passo passo come raggiungere il movimento. L'Applejack è questo. Per cominciare unitevi più da sedia. Esercitarsi con l'Applejack seduti vi aiuterà a concentrarvi solo sull'appoggio dei piedi, senza però dovervi preoccupare di mantenere l'equilibrio del corpo. Una volta riuscito l'Applejack da posizione seduta sarà facilissimo farlo anche dai piedi. Per prima cosa incominciamo con un semplice esercizio in cui andiamo ad alternare gli appoggi con il tacco e con la punta del piede. Piede destro tacco, piede sinistro punta e viceversa, in modo che siano sempre in alternanza. Una volta che avete fatto pratica con questo primo esercizio potrete procedere con un secondo utile esercizio. Un piede alla volta provate ad alzare la punta, far uscire la punta verso l'esterno, tornare indietro e appoggiare, alzare il tacco, tirare il tacco verso l'interno, tornare indietro e appoggiare, punta, fuori, indietro, giù, tacco, dentro, indietro, giù. E provate anche a cambiare piede, punta e sempre fuori, indietro, giù, tacco, sempre dentro, indietro, giù, provate poi a farlo contemporaneamente, il punta fuori e il tacco dentro, giù, punta fuori e tacco dentro, giù, punta fuori e tacco dentro, giù, punta fuori e tacco dentro, giù. Man mano che ripeterete questo esercizio prenderete sempre più dimestichezza sul movimento del Apple Jack. Siete quasi arrivati al traguardo. Acquistando fluidità riuscirete a completare il vostro Apple Jack. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo in pista! Grazie a tutti! Grazie a tutti!